Ci insegna che l'Italia è un paese che ha grandissime risorse, alcune conosciute come quella della nostra sanità e dei nostri operatori, alcune meno conosciute come la solidarietà e la capacità di rispondere alla chiamata altruistica che viene dagli altri cittadini. La risposta da parte degli italiani è stata una risposta straordinaria, una risposta che ci dobbiamo ricordare tutti i giorni perché ci sono tanti altri bambini che hanno necessità di donazione di cellule staminali come di sangue. Io voglio ricordare che abbiamo necessità anche di aumentare la donazione di sangue e quindi tutti quelli che sono gli atti solidaristici vanno assolutamente stimolati, ringraziati e presi sempre come esempio. Io vi ringrazio e oggi è una giornata in cui è necessario festeggiare, questa è la cosa più importante di tutti.